Raga, è arrivato finalmente il momento che tanto stavamo aspettando Raggiungere l'Antartide continentale, eccolo qua Il settimo continente Girerò il mondo e lo farò senza neanche un aereo Partirò inizialmente dall'Italia e attraverso tutta l'Asia Ratingerò gli antichi L'Australia Abbiamo appena messo il piede nel settimo continente Sono davvero emozionato Posso dire che è concluso il giro del mondo senza aereo